E' stato ritrovato un elegante pullover di Lesbol, con manica all'inglese, colore brillante, soffice e leggera come un soffio, in pura lana vergine, firmato Grandi Incontri. Ma è il mio! Ma sì, è il mio! È mio! Grandi Incontri è solo Upim, 50 proposte selezionate dagli esperti e garantite, soddisfatto o rimborsato. Soddisfatto? Soddisfatto! Grandi Incontri Upim. Prima, passa alla Upim.